ok ci siamo primo allenamento con la pettorina vai jack vai 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 jack si deve fare un po di confidenza jack vai 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 così bravo bregatura vai jack vai vai così vale vai oggi non si torna a casa sotto i dieci i dieci chilometri vai 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 stata un po ghiacciata ma non ci fermerà di certo questo a lei vai nostri allenamenti continuano alla grande vai jack alli alli